Arrestati dalla Polizia di Stato, tre giovani per stalking. Si tratta di tre cittadini albanesi, rispettivamente due di 20 anni ed uno di 19, da anni residenti all'Aquila. I tre giovani da circa un anno molestavano e minacciavano, in alcuni casi, passando anche alle vie di fatto con aggressioni fisiche, due fratelli di nazionalità moldava di 20 e 23 anni, anche loro residenti nel capoluogo abruzzese. Dalle attività di indagine portate avanti dalla squadra mobile, è emerso che circa un anno fa, all'interno di una discoteca a Monticchio, uno dei due fratelli moldavi, ventenne, era stato aggredito da ragazzi albanesi in seguito ad una rissa, a un tentativo di approccio con una ragazza, rivelatasi poi la fidanzata di uno dei tre albanesi. Il giovane moldavo sporse regolarmente denuncia nei confronti del suo aggressore, che da quel momento però ha avviato una vera e propria attività persecutoria, diretta anche contro il fratello 23enne del ragazzo, culminata ieri con un'aggressione con bastoni all'uscita della scuola di quest'ultimo. Il giovane, diretto verso il termine dei bus di Colle Maggio dalla sua scuola a Colle Sapone, è stato prima affiancato da una vettura con a bordo i tre albanesi, successivamente ha subito un tentativo di aggressione da parte di quest'ultimi, che hanno tentato di bloccare il giovane moldavo, ma il ragazzo, che si è subito reso conto di quanto stava accadendo, ha anticipato il suo aggressore ed è riuscito a fuggire, dirigendosi verso un'altra macchina in sosta con a bordo il conducente. Una volta nella macchina si è rivolto subito alla polizia di Stato, che è prontamente intervenuta. Dalle dichiarazioni delle vittime e dalle altre testimonianze, è emersa una storia intrisa di aggressioni e minacce patite dai due giovani moldavi per circa un anno. Un'escalation di violenza, poi che si è verificata negli ultimi periodi nei confronti delle vittime. Tra l'altro, anche nella notte tra sabato e domenica, uno dei due fratelli moldavi, rientrando a casa con un amico a Prata d'Anzidonia, era stato avvicinato sempre da una vettura con a bordo i tre albanesi. Anche qui i tre avevano delle spranghe di ferro ed erano riusciti a colpire il giovane, seppur marginalmente. Stessi tentativi di aggredirlo, anche il 24 settembre, il 25 settembre, uno sempre a Prata d'Anzidonia e uno all'Aquila.